Quanto vi sto raccontando, e siamo a Pietrelcina nel 1910, è accaduto proprio il giorno prima, il 18 gennaio, però a me piaceva condividere questo evento, perché è un evento carino, che ci fa sorridere. Siamo alle prese con un giovane frate, Fra Pio da Pietrelcina, che va ad amministrare il suo primo battesimo, pensate un po'. Mise tanto sale al neonato, che aprendo la boccuccia a questi strabuzzava gli occhi, e Padre Pio, tutto impaurito, a quel punto disse alla cipete, Don Salvatore, ho ucciso il bambino. Il bambino era Ermelindo Masone, che diventerà un religioso redentorista. Ma quello che volevo raccontarvi anche oggi è che nel 1912 Padre Pio scrive a Padre Agostino, dicendogli che in salute stava benino, ma la vista non vuole ritornarmi, barbablu non si vuole dare per vinto, ha preso quasi tutte le forme. Da vari giorni in cui mi viene a visitare assieme con altri suoi amici armati di bastoni, di ordigni di ferro, è quello che è peggio, sotto le proprie forme, ma pazienza. Gesù, la mammina, l'angioletto, San Giuseppe, il Padre San Francesco sono quasi sempre con me.